Cubello Foglia Più, Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Benvenuto Francesco Boccia. Buonasera. Ministro per gli affari regionali e l'autonomia, la ringraziamo di aver accettato il nostro invito in una giornata così piena di notizie e di decisioni da prendere. Partiamo dai dati del giorno. 846 morti, 15.000 contagiati. Siamo sopra la soglia critica delle terapie intensive. Non abbiamo buone notizie oggi, vero Ministro? No, siamo oltre il 36% delle terapie intensive e oltre il 42% di posti in area medica. Sono le soglie 30-40% terapie intensive e ricoveri in ospedale che non bisogna superare. Siamo su e il nostro impegno è andare sotto quei numeri, quei parametri. Scendiamo troppo lentamente? La curva scende troppo lentamente? Ecco, vi faccio vedere il cartello 11. Prego. Ecco la curva. Scendiamo, scendiamo anche bene. Noi abbiamo fatto la scelta di non fare un secondo lockdown nazionale. siamo passati da 1,72 di IRT, dell'indice di contagio, a 0,8. È evidente che questo mese deve essere il mese che deve portarci ancora più giù e dobbiamo mettere in sicurezza tutte le reti sanitarie il più possibile. Senta, ora lei sa che tutti siamo tesi a sapere che cosa potremmo fare per le feste, anche per problemi proprio organizzativi, non solo di sentimento di una nazione che va incontro a un appuntamento importantissimo come quello delle festività. Le richieste dei tecnici per le feste, del CTS, allora vi hanno detto, Italia tutta rosso-arancione dal 20 dicembre, controlli massivi delle forze dell'ordine, vietare le aggregazioni anche nelle case. Questa è la richiesta del CTS anche se sappiamo che non erano tutti d'accordo. Cosa farete? Intanto domattina c'è una riunione con le regioni alle 8.30, con il ministro Speranza e il commissario Arcuri. Domani chiudiamo il piano vaccini, quindi è un passaggio importante. C'è stato un lavoro duro, faticoso, ma siamo pronti e siamo tra i primi. E poi discuteremo anche delle misure restrittive. Io penso che sia utile e necessario restringere ancora di più durante le festività. Questa è la posizione che viene fuori dal CTS, che verrà fuori anche dalle regioni, ce lo chiedono i comuni. Io penso che sia molto responsabile da parte nostra essere conseguenti. A maggio eravamo arrivati allo 0,5 di indice di contagio, di RT, ma avendo davanti giugno, luglio, agosto. Ora, grazie alle misure già prese, siamo su quella strada, ma abbiamo di fronte gennaio, febbraio, marzo. Dobbiamo essere responsabili e sapere che a gennaio, dal 7 gennaio, si riparte, ma si riparte mettendo in sicurezza i reti sanitari il più possibile. Se non lo facciamo durante le feste di Natale, quando dovremmo farlo? Però, ministro, lei sa che una cosa è dire siamo sulla strada, una cosa è dirci cosa faremo. Ormai siamo sotto Natale, bisogna organizzarsi non tanto e non solo le famiglie, ma pensi ai ristoranti che hanno magari acquistato cibo che non potranno usare, devono sapersi organizzare. Allora ci dica, zona rossa o zona arancione, l'Italia durante le feste? Ma chi ha già riaperto, gran parte dell'Italia è gialla da molti giorni, sta lavorando e sta lavorando con le misure di sicurezza che conoscete. In questo momento la decisione che si aspetta riguarda più tre giorni, cioè 25, 26 e 31, che tutto il resto del periodo, che è un periodo che è già sottoposto a prescrizioni molto chiare. Io ritengo che dalle giornate prefestive in poi, fino al 6 gennaio, 7 gennaio, è più utile per tutti chiudere il più possibile. Non è una decisione che prendo io, prende ogni singolo ministro da solo, la posizione mia è nota, così come quella di Speranza, e vogliamo condividerla con le regioni e con gli enti locali nelle prossime ore, ma io penso che sia patrimonio collettivo il risultato che viene fuori da nuove restrizioni, non è una scelta che va a vantaggio di uno o dell'altro. Il ministro 25, 26 e 31 ci ha detto, quindi stiamo parlando di Natale, Santo Stefano e della Notte di Capodanno. Allora la discussione all'interno del governo è su zona arancione, quindi chiusura solo dei ristoranti, o zona rossa in cui non ci si può muovere neanche da casa, quindi salterebbe il pranzo di Natale anche a casa dei parenti probabilmente? No, dicevo 25 e 26 e 1, perché la discussione e il dibattito è partito perché abbiamo osato ipotizzare chiusure ulteriori 25 e 26 e 1. La mia posizione è nota ed è sempre la stessa, per me dai prefestivi prima di Natale fino al 6 gennaio è opportuno chiudere il più possibile. Le valutazioni che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico sono sotto gli occhi di tutti. Io penso che terminata questa fase di zonizzazione, cioè con tutta l'Italia in giallo, siamo quasi lì, poi è necessario chiudere il più possibile. Quindi dal 23, 24, 25 in poi le valutazioni che faremo porteranno l'Italia ad essere di un colore unico e più intenso il colore, più restrizioni ci sono. Se la domanda è se si fa il cenone di Natale, la risposta è no, dal mio punto di vista. ed è già nelle cose, ipotizzare assembramenti è folle, ipotizzare cenoni oltre i conviventi è una cosa sbagliata, ed è nelle cose. Avete una data... Noi abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la sanità, di salvare vita, non di stimolare assembramenti o cenoni. I cenoni possiamo farli l'anno prossimo, li faremo l'anno prossimo. Ministro, mi dica una risposta flash, perché non le voglio rubare altro tempo, so che ha altri impegni. Avete, lei diceva, variamo il piano vaccini, avete una data in cui si inizierà a vaccinare gli italiani? Inizieremo tutti insieme in Europa sicuramente a metà gennaio. Dovevamo iniziare a fine gennaio, abbiamo anticipato, il Ministro Speranza ha fatto un eccellente lavoro, le regioni anche, domani chiudiamo l'accordo, il piano logistico è pronto, l'esercito è attivato, siamo pronti, da metà gennaio si parte. La data esatta.